Si torna a scuola finalmente. 6.000 studenti delle superiori rientrano in classe nel Terramano. Esattamente il 50% degli 11.562 ragazzi che questa mattina si sono spostati all'interno della provincia, autonomamente o con mezzi pubblici. Alla fermata degli autobus, appositi vigilantes hanno impedito assembramenti e assicurato rispetto delle regole. Tutto sembra essere andato secondo le aspettative. Alla prova dunque il piano trasporti, messo a punto prima di Natale dalla prefettura di Terramo, in sinergia con l'ufficio scolastico provinciale e le istituzioni. Il piano prevede che le scuole superiori terramane possano dividere gli studenti in gruppi omogenei, prevedendo due orari differenziati d'ingresso per non appesantire il trasporto pubblico. Per quanto riguarda invece le società di trasporto, esse garantiranno la capienza del 50% sugli autobus, mentre la tua ha già predisposto per la provincia di Terramo 17 bus in più e ulteriori 72 corse. La prefettura ha infatti ribadito la necessità di tale programmazione, visto l'alto numero di pendolari tra gli studenti terramani delle superiori, una cifra che supera il 65% di tutti loro. E se la maggior parte delle famiglie e dei ragazzi è contenta per la riapertura delle scuole, anche con le dovute turnazioni, critico è invece lo SNALS, il sindacato scuola abruzzese, che sostiene che la riammissione in presenza, sia pure parziale degli alunni delle superiori, ha il sapore di un azzardo, visti i dati sul contagio del Covid. Diverso è il punto di vista espresso dalla CGL di Terramo, che in una nota stigmatizza il balletto delle chiusure della didattica a distanza. In questo modo si aumenta il divario sociale, si lede il principio della parità, delle condizioni di partenza, aumenta la dispersione scolastica, si abbandonano i ragazzi alla solitudine sociale.